Rullo di tamburi, oggi parliamo di Filmora X. È davvero parecchio che non pubblico un episodio di YouTube e nel frattempo la Wondershare Filmora ha rilasciato un nuovo aggiornamento del programma di montaggio video e dal 9 siamo passati alla X o 10, non sono sicura, ma vediamo tutto dopo la sigla. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a creare video con gli strumenti che hai, dalle riprese anche con un semplice telefonino al montaggio con computer desktop o con le applicazioni. Oggi dedico l'episodio a Wondershare Filmora che è il programma a cui ho dedicato i primissimi episodi di questo canale e a cui un po' tutti sono rimasti affezionati. C'è una novità però in questo episodio è che la Wondershare, la software house, mi ha contattato per chiedermi di raccontarvi e di spiegarvi le nuove funzionalità di Filmora X. Questo per sottolineare il fatto che gli episodi precedenti sono assolutamente spontanei e autoprodotti. Credo infatti che Filmora sia un programma semplice per chi si approccia per la prima volta al mondo del video editing. Ci sono tantissime alternative più professionali e o gratuite e qui vi lascio un elenco esaustivo. Ora però iniziamo con il tutorial. Come prima cosa vi do alcune informazioni pratiche. La prima è che Filmora X si installa come un nuovo programma sul vostro computer. Questo perché il cambio, l'aggiornamento del programma spesso è un pochino destabilizzante. In questo modo puoi continuare a fare i progetti importanti con la versione a cui eri abituato e fare il passaggio solo quando sei pronto. La seconda informazione è che l'aggiornamento è completamente gratuito per chi ha già acquistato la licenza precedente di Filmora 8 o Filmora 9. Quindi clicca su aggiornamenti e segui le istruzioni. L'ultima nota è che l'aspetto del programma, quindi chiaro o scuro, è personalizzabile. Basta andare nelle preferenze là sopra, aprire la finestra e scegliere modalità chiara, scura. Questo lo dico perché spesso mi scrivete sotto e dite il mio Filmora è diverso, è una questione personalizzabile ma le funzioni sempre li sono. L'avitato rilevante di Filmora X è senza dubbio il motion tracking che ti traduco come tracciamento di movimento. In pratica è quella funzione che fa sì che quando si muove qualcosa nella tua inquadratura, che può essere una persona, un animale o anche un elemento come per esempio una mano, in automatico puoi associare un elemento grafico o un testo che si muove in corrispondenza del tuo elemento. Ora ti spiego come fare. Come prima cosa vai a delimitare la clip con il personaggio o il soggetto di cui vuoi tracciare il movimento e ricordati che il tuo soggetto deve essere presente dall'inizio alla fine della clip, altrimenti l'effetto non funziona. Quindi nel caso in cui la clip sia più lunga semplicemente fai un taglio di montaggio e dividi in due la clip. Poi crei la tua grafica che vorrai associare al movimento, può essere un testo semplice oppure un testo associato a un'etichetta, rettangolo, cerchio, quello che vuoi. A questo punto, e questa è la nuova funzione, clicchi là sopra, sopra la timeline, su quel simbolino che è fatto da un più con attorno soltanto gli angoli di un quadrato. A questo punto nel visore compare un rettangolo. Lo posizioni sul soggetto di cui vuoi tracciare il movimento, lo ridimensioni se necessario e a questo punto clicchi su inizia. Il programma lavorerà per te e traccerà il movimento all'interno della clip. A questo punto dalla tendina là sopra la apri e selezioni la grafica che vuoi associare al movimento in quella specifica clip. Tieni presente che questo effetto funziona stupendamente quando il tuo soggetto si muove parallelamente alla videocamera. Se invece il soggetto cambia forma e contorno nel corso dell'inquadratura non sempre potrebbe riconoscerlo. Questo effetto inoltre può essere utilizzato anche in alternativa al face detection, quando ad esempio avete delle riprese fatte in esterno dove in cui non avete l'autorizzazione di tutti, potete utilizzarlo creando una sagoma e coprendo il viso della persona che volete oscurare. I fotogrammi chiave sono la seconda grande innovazione di Filmora X. Spesso ve ne ho parlato semplicemente per dirvi che Filmora non supporta i keyframe. Con questo aggiornamento sono stati introdotti in maniera semplificata ma vi permettono di fare e di creare moltissimi simpatici effetti. Questo significa che potete far vedere lo spostamento degli oggetti all'interno di un'inquadratura e se utilizzate uno schermo verde come me potete creare gli stessi identici effetti. E anche questa è una domanda che ricorre spessissimo nei commenti qua sotto. Ora ti spiego come fare. Fai doppio clic sulla clip che vuoi animare e là in alto si aprono le impostazioni avanzate che è un po' il posto dove si trovano tutte le funzioni più interessanti. E' apparso un nuovo tab che si chiama appunto animazioni. Clicca sul tab animazioni per scoprire quali sono i parametri che si possono animare attraverso i keyframe che sono la rotazione, la scala, la posizione e l'opacità. I fotogrammi chiave servono per dire quale deve essere un valore di un certo parametro in un determinato punto e perché ci sia una trasformazione. I fotogrammi chiave devono essere sempre due altrimenti non c'è nessuna trasformazione. Noi indichiamo il punto di inizio e il punto di fine e nel mezzo il programma calcola quale deve essere la trasformazione. Ora ti mostro come creare uno spostamento orizzontale che si traduce con la modifica della posizione sull'asse delle x. Come prima cosa ingrandici tantissimo la timeline perché quando andrai a creare i puntini, i pallini che simboleggiano i keyframe rischiano di sovrapporsi tutti e di creare una gran confusione. Quindi a questo punto posiziona la tua linea rossa nel punto in cui vuoi che inizi il movimento e clicca su aggiungi. Sposta poi la linea rossa nel punto in cui vuoi che finisca il movimento. A questo punto vai a modificare il valore x o verso i valori meno o verso i valori più e vedrai che la tua immagine si sposterà da una parte o da quell'altra. In automatico il programma crea già il fotogramma chiave e ti compare una freccina che simboleggia la trasformazione. Torna indietro e riguarda tutto. Come puoi capire le possibilità, le possibili combinazioni sono infinite e lascia a te il compito di sperimentarle tutte. La terza funzione di Filmora X che ti mostro è il color matching che significa che prende una clip e cerca di far corrispondere a un'altra clip di riferimento. In realtà tutto il tema della correzione del colore, della gradazione del colore è molto approfondito e militerebbe un episodio assessante e nel caso fatelo sapere. Ma il funzionamento di questa funzione è veramente molto semplice e ora ti illustro come fare. Il color matching o corrispondenza del colore serve per fare sì che tutte le clip abbiano più o meno la stessa gradazione del colore lungo il filmato. Quindi solitamente si prende un fotogramma o una clip di riferimento e si fanno corrispondere le altre a quel momento, a quella clip che è stata corretta. Il funzionamento pratico in realtà è molto semplice e ti spiego come fare. Seleziona la clip di cui vuoi correggere il colore. Clicca là sopra la timeline su quel simbolino della tavolozza che esisteva già prima ma in questa versione X si aprono due menu. Clicca su corrispondenza del colore e là in alto si apre tutto il menu con tutte le possibili correzioni di colore che si possono fare. A noi interessa però la sezione corrispondenza colore. Clicca su visualizzazione comparativa e nel visore qua sopra compariranno due finestre. Quella di destra corrisponde al punto esatto dove si trova la linea rossa della clip di cui vuoi modificare il colore. Quella invece di sinistra mostra tutto il tuo filmato che hai sulla timeline e semplicemente scorrendo il pallino puoi andare a cercare qual è la clip e il fotogramma a cui vuoi far corrispondere il colore dell'altra clip. A quel punto clicchi ok e in automatico il programma farà un calcolo per cercare di allineare e far coincidere appunto i colori delle due clip. Nella pratica è molto semplice ma l'effetto funziona quando le due clip di partenza sono molto simili. Se ad esempio vuoi cercare di cambiare l'illuminazione tra una ripresa di un paesaggio illuminato dal sole e lo stesso paesaggio ripreso anche semplicemente dieci minuti dopo ma in quel momento passava una nuvola, questo allineamento di colori non succederà mai perché una nuvola cambia radicalmente l'illuminazione del tuo paesaggio quindi questa funzione è utile e bella quando magari devi fare dei piccoli aggiustamenti o quando vuoi applicare una correzione del colore che hai fatto in un punto a tutto il tuo filmato. Grazie per avermi seguito fino a questo punto e fammi sapere nei commenti qua sotto come ti trovi con Filmora X e anche eventuali problemi da affrontare. Ti ricordo che Filmora è un programma molto semplice e quindi utile per chi non è filmmaker e vuole utilizzare il video per promuovere la propria attività e anche per avviare il proprio canale youtube. Per lanciare un tuo canale youtube un bel video non è tutto ma servono strategia e posizionamento e a questo scopo ho creato un corso gratuito in 7 mail che puoi ricevere se mi lasci il tuo indirizzo qua di fianco o qua sotto. Per oggi ti saluto e ora è il momento di mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.